Ecco qua, siamo in navigazione, che Stefano segue la farfalla e Giacomo anche, 5 nodi pieni con la bellezza di 6,8, 2,5. Lì di fronte a noi, Rodi, a 4 miglia di distanza. Stefano già sente il profumo di Falco. Voi sentite invece il profumo dei miei piedi? Noi il profumo dei tuoi piedi, forse ieri c'è stato un accenno, però poi dopo con il ricambio d'aria avevo già come confermi anche tu che... Adesso scenderà a Rodi con i suoi calzini a tedesco, dentro i suoi sandalotti. Molto bene. Faremo una bellissima figura. Mi raccomando stasera fighetti, già adesso all'ormeggio, fighissimi perché il porto di Rodi non possiamo fare una brutta figura. Senti ma le dita del naso ce le possiamo mettere? Le dita del naso di nascosto, diciamo. Al limite col mignolo che fa più finito. Ah col mignolo, metto però la mano davanti. A dopo. Grazie.